Gentili telespettatori, buona giornata. Hanno denigrato l'Italia per anni. Negli ultimi cinque anni ha governato il PD, il Movimento 5 Stelle. La sinistra è stata al governo negli ultimi undici anni per dieci anni, o come governo proprio, o come invitati, o come governi di unità nazionale, o come governi tecnici. Negli ultimi undici anni, sono stati dieci anni al governo, il risultato è che l'Italia viene considerata uno degli ultimi paesi dell'Unione Europea. Invece l'Italia ha fondato l'Europa, l'Italia ha fondato l'Alleanza Atlantica, la Nato, l'Italia è la terza economia su 27. la forza militare delle forze armate sono il numero due in Europa dopo la Germania. Invece, così, in questi lunghi anni, gli anti-italiani hanno screditato il paese come Letta, Di Maio, che andavano a chiedere aiuto in Europa. Arrivano i cattivi, aiutateci, pericolo per la democrazia. Il PD accusa Giorgia Meloni di fare isolare il paese. Bonaccini, Meloni ignorata, inutile lamentarsi dopo, se per anni denigri l'Europa poi raccogli ciò che hai seminato. Completamente falso, come vi dicevo nell'articolo precedente. E l'Italia, che si è autodenigrata in Europa grazie ai sinistri, e questo è il risultato, per dieci lunghi anni di anti-italiani al governo. Poi abbiamo Enrico Borghi, che dice siamo esclusi dai vertici internazionali più importanti, isolati come non accadeva da anni, sempre accaduto, grazie a voi che siete anti-italiani. e poi dice serve poco lamentarsi come fa Meloni. La Meloni governa da 105 giorni e il PD è stato al governo dieci anni. Di chi è la colpa dell'isolamento? Non ci vuole un Einstein della matematica per capirlo. E poi aggiunge questo Borghi siamo esclusi a causa dell'atteggiamento un divago inadeguato del nostro governo. Anche questa frase non ha senso. E poi abbiamo Simona Malpezzi presidente dei senatori del PD. Dice Meloni non si offenderà se registriamo l'ovvio. L'Italia è sempre più isolata ai margini del contesto internazionale perché mentre i paesi europei fanno politica i membri del governo si occupano di fare polemiche su Sanremo. questa è una grandissima cavolata. Poteva anche non dire niente che faceva una figura migliore. E beh, poi arrivano i finti politici del Movimento 5 Stelle. Questi ci mancavano. Allora abbiamo i geni della politica. vi racconto dei geni della politica. Barbara Florida capo gruppo hanno anche i capi gruppo nel Movimento 5 Stelle sono quelli più... dice è triste registrare che l'Italia è passata da essere protagonista in Europa con Giorgia Meloni all'isolamento targato Giorgia Meloni. Eh? No, aspettate... Aspettate che ve la rileggo. È triste registrare che l'Italia è passata protagonista in Europa con Giorgia Meloni all'isolamento targato Giorgia Meloni. In che senso? Cioè, il... Questa signora dice che l'Italia passa da protagonista con Meloni a isolamento con Meloni. Beh, complimenti! Magari dovevate dargli un po' dieci minuti in più e dire signora aspetti si concentri un altro pochino aspetti non mi risponda subito faccio le domande a qualcun altro lei si concentri sulla risposta e poi me la dia bene. Mi raccomando perché quello che ho sentito è un pochino... dovrebbe fare una dichiarazione un po' più e un po' meno e un po' meno e invece no. Andiamo avanti perché non è finito. c'è la sagra delle dichiarazioni dei politici da operetta. E poi abbiamo Più Europa e Terzo Polo. Benedetto Della Vedova è segretario di Più Europa dice a Coffee Break sulla Sette già è un programma Coffee Break sulla Sette e Benedetto Della Vedova dice Meloni ha sbagliato a dire che l'incontro tra Schultz Macron e Zelensky è stato inopportuno così sembra che come si dice a Roma Meloni abbia rosicato. anche questa dichiarazione è assurda. Meloni ha rosicato. Non doveva dire che non va bene che si sono incontrati perché così ha rosicato. Ah! Quindi secondo Benedetto Della Vedova colui che viene secondo Benedetto Della Vedova colui che viene doveva star zitta perché sennò fai la figura che rosichi. E' proprio questa la differenza tra il governo attuale e gli anti-italiani che hanno governato per dieci anni. E poi arriva Scalfarotto quello che dormiva sulle ONG. Oggi senatore di Italia Viva no devono aver sbagliato Scalfarotto è in Italia Viva dice con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi rischiamo l'isolamento. Anche questa qui è una dichiarazione vuota. Vuota. Anche perché profondamente ingiusta. La Meloni in 105 giorni sta cercando di recuperare viaggia incontra va a destra va a sinistra naturalmente con tutto l'impegno che ci può mettere in 105 giorni non può ridare dignità a un paese gestito dagli anti-italiani per tanti anni. umanamente impossibile che possa in così poco tempo ridare dignità a un grande paese schiacciato sotto l'anti-italianità di tante persone comunque avanti così abbiamo capito ormai che quest'area politica è inconsistente non ha nulla dentro e qualsiasi cosa fa la Meloni ripetono come dei pappagalli tutti insieme la stessa cosa possiamo dire che sono veramente tristi sono sono molto tristi molto molto grazie a tutti arrivederci a presto grazie a tutti